Questa sera sono in gara i 16 campioni. Saranno votati da una giuria demoscopica composta da 500 persone divise in 10 sedi regionali della RAI. A fine serata ci sarà una classifica provvisoria di cui diremo i primi tre classificati. Sabato i 16 campioni saranno votati una seconda volta da una giuria di 10 esperti. I loro voti sommati percentualmente a quelli di questa sera e stabiliranno il risultato finale del festival. Allora ci mettiamo da questa parte, il regolamento è fatto e iniziamo la gara. Questa sera i 16 campioni, primo campione in gara. La vuoi chiamare tu? Sì. Sai chi c'è? Sì, c'è Mietta! Mietta! Eccola qua! Buonasera Mietta! Buonasera! Ciao, benvenuta! Prego! Di Panela e Mango, Fare l'amore. Dirige l'orchestra il maestro Rocco Petruzzi. Canta Mietta! Buonasera! Mietta! Buonasera! 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 vogliamo sciogliere le nostre parole in quella canzone. Ti chiamo amore, con i nomi più grandi e più piccoli, le tue sagge eri un angelo in me. Stringimi ogni bacio finale, il penultimo, ma feroce e tu stringiti a me se vivi anch'io. Fare l'amore mette in pericolo tranquille parole, sole nel sole le tue parole mie. Di nuovo d'amore, di nuovo d'amore. Se vivi e vivo anch'io, se mori e mori anch'io, se ami e amo anch'io. Fare l'amore mette in pericolo tranquille parole. Miele nel sole vogliamo sciogliere le nostre parole in questa canzone. La classica foto e giurie hanno votato. Grazie, hai aperto tu il cinquantesimo festival. Grazie.